amici di quarta parete sono qui al teatro d'ordinona e sono in compagnia di questa fanciulla che risponde al nome di beatrice buonasera beatrice buonasera a tutti ma è vero quello che si dice che lei è tanto gentile tanto onesta pare ecco ma come pare ma come pare dico io per favore non disilludiamo tanti uomini no io 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 non io sono gentile e onesta sicuramente ma dico che questa cosa va anche un pochettino ecco non sono fessa ecco fondamentalmente chiariamo come a napoli allora stiamo scherzando con melania fiore buonasera melania tutto questo per introdurre questo splendido spettacolo che ha debuttato ieri sera qui al teatro d'ordinona con grande successo con senso pubblico e di critica mi pare che ottimo inizio con beatrice risponde a dante perché insomma sto dante no cioè ce l'ha menata in tutte le salse che su beatrice su una donna e legge celestiale sull'empirio pirio insomma tutte queste virtù ma insomma sarà è una donna fondamentalmente no e come tutte le donne ci avrà delle passioni la domanda assolutamente ma infatti il senso umanizziamola ma infatti il senso di questo vogliamo parlare come no se vuoi questo spettacolo questo spettacolo anzi questo bellissimo saggio spettacolo dico saggio spettacolo sennò s'arrabbia il mio grande autore enrico bernard s'arrabbia che abbiamo intervistato che abbiamo abbiamo da lui ha già dato e in questo saggio spettacolo si dice proprio questo che lei come dire cerca di togliere questi contorni celestiali che appaiono anche un po fumosi no dalla figura della donna e che appunto il dolce stil novo la vede la voleva una donna bella santa ma che era una specie di suora no dice per usare le parole di enrico bernard che il l'elodia il cielo canta ma che non è padrona della sua storia una sepolta viva fondamentalmente ecco io vi sembro sepolta viva non ci pare non ci pare tra l'altro voi non potete vederlo perché siamo lato platea ma di fronte a noi c'è la scenografia dove è prevista una tavola da stilo con tanto di ferro e dei panni stesi questo mi pare molto che fa molto contorno no e ci riporta soprattutto al concetto che una donna è una donna in carne e ossa quindi con le sue passioni e la sua forza ma soprattutto il senso di questo testo che non ci prendiamo in giro insomma no la donna la donna è stata per secoli e secoli senza nulla da dire ovviamente contro il genio di dante perché questa non vuole assolutamente come avrà detto come avrà detto enrico senza dubbio anche meglio di me che il che non è che è una critica dante al grandissimo genio di quest'opera è semplicemente un qualcosa che vuole riportare la donna a essere vera ok quindi a riprendere riprendere la sua funzione terrena gli strumenti per essere una figura in carne e ossa quindi una figura che lava che stira che beve che ramazza per te che poi è quello che è e concede anche qualche passione dai si concede anche qualche passione carnale che non è solo dell'uomo che ovviamente in questa ottica di enrico bernard sembra sembra che la vede come una donna appunto virginale tutto quanto e poi invece la immagina nuda sostanzialmente quindi ecco diciamo che il testo di enrico bernard vuole smascherare queste ipocrisie fondamentalmente splendido allora ricapitolando stasera ore 21 domani sabato ore 21 domenica ore 18 dico bene assolutamente mi raccomando accorrete tantissimi a vedere la pulsella qui la fanciulla con tanto di coroncina vedete no e per vedere appunto melania fiore bellissima bravissima con beatrice risponde a dante e scritto e diretto d'erico bernard con la partecipazione vocale di aldo castellani grande voce bisogna dirlo grandissima voce e la voce di dante e dante e dante che si è una voce però aleggia 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 nell'aria non si vede ma aleggia nell'aria veramente venite a divertirvi è un testo splendido vi farete tante risate ma rifletterete anche un po diciamo e questo spettacolo lo rivedremo la prossima stagione vero melania si è già è già insomma designato sulla carta nella prossima stagione saremo sempre qui nella nostra bellissima città con questo beatrice risponde a dante per le rime bene allora io congedo beatrice grazie melania la cosa come diceva qualcuno è reciproca e grazie a tutti e alle prossime naturalmente buon teatro grazie grazie mille a tutti voi buon teatro e venite a vedere beatrice se no si arrabbia teatro tur di nona arrivederci ciao